ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video io sono damma colleziona e benvenuti sul mio canale benvenuti in questo nuovissimo video di pillole di on video ben ritrovati qui sul canale damma colleziona oggi nuovissimo video del format pillole di on video come potete vedere qui oggi vi mostro l'edizione digibook in blu-ray del cult movie un tram che si chiama desiderio lungometraggio del 1951 diretto da elia casan con protagonisti vivian lei e marlon brando la settimana scorsa vi ho fatto vedere l'edizione digibook blu-ray del film amadeus basato sulla pièce teatrale di peter chaffer ebbene questo lungometraggio qui è basato sull'omonimo dramma di tennessee williams pubblicato nel 1947 pellicola cult che non ha bisogno di presentazioni opera fantastica con un superbo marlon brando nei panni del burbero stanley kowalski opera che in america è davvero seminale cult in italia è nota è definita un classico ma non così classico come lo è negli stati uniti pellicola molto bella un po pesantuccia perché tratta comunque di tematiche molto importanti come l'alcolismo la violenza di genere l'omosessualità ci sono comunque tante tematiche molto forti e sotto certi aspetti è una pellicola ancora molto attuale sempre verde e valida quindi a mio avviso è un gran bel film che tuttora propone delle questioni importanti quindi va vista e va riscoperta dunque l'edizione è digibook è un'edizione italiana qui dietro c'è il fogliettino con la localizzazione italica quindi c'è ovviamente audio italiano che è in dolby digital 1.0 e qua ci sono numerosissimi contenuti speciali sono davvero tanti trattano tantissimi aspetti c'è di tutto di più quindi c'è il commento audio le scene tagliate la parte della censura su un tran chiamato desiderio l'adattamento ci sono cinque documentari di approfondimento in sostanza ci sono tantissime clip molto interessanti che analizzano ogni aspetto di questa seminale pellicola il master proveniente da cui è stato realizzato il blu ray proviene da una nuova versione restaurata infatti come c'è scritto qui contiene il restauro ed è la versione originale restaurata con anche in aggiunta quelle particine che sono state censurate all'epoca infatti se non ricordo male mi sembra che all'interno ci siano anche delle parti sottotitolate in italiano perché all'epoca furono censurate qua sulla costina troviamo logo blu ray e il titolo originale a streetcar named desire un tram chiamato desiderio e il logo warner poi all'interno è così composto troviamo il disco blu ray e poi qua c'è il book di 40 pagine sempre stampato su una carta bella spessa di una bella grammatura ci sono tantissime immagini qui l'immenso marlon brando che interpreta kowalski ruolo perfetto per lui il book è scritto in inglese pur essendo un'edizione italiana il testo qui all'interno è tutto in inglese non è stato localizzato in italiano non è stato tradotto peccato però vabbè l'inglese è la lingua comune quindi comunque si riesce a leggerlo e a comprenderlo come testo qui sempre una parte su marlon brando stanley kowalski qui una celebre frase del film hey stella don't you ever leave me baby vivien lay nei panni di blanche dubois anche questo è un ruolo incredibile seminale e poi c'è una parte sul regista elia kazan resista vecchia scuola quello di fronte dal porto poi qui c'è una parte sulla sceneggiatura e sul romanzo piastetrale di partenza qui c'è una parte su tennessee williams grandissimo scrittore statunitense qui c'è un trivia delle curiosità sul film poi qui la trasposizione dal teatro al cinema dal libro al film un book di 40 pagine bello sostanzioso che spiega di tutto e di più sulla pellicola un tran chiamato desiderio e basta fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo lungometraggio e cosa ne pensate di questa stupenda edizione blu ray in digibook del film un tran che si chiama desiderio a streetcar named desire io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento a settimana prossima con un nuovissimo video di pillole di home video a presto